Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata alla rimozione delle camere COC dal porto Rifugio di Gela. Le delicate operazioni devono essere svolte nella massima sicurezza ed è per questo che sono state predisposte una serie di iniziative che riguardano anche i cittadini coinvolgendo le stesse operazioni, la mobilità notturna. Il comandante della Polizia Municipale di Gela Giuseppe Montana ai nostri microfoni spiega esattamente cosa sta accadendo e come i cittadini dovranno comportarsi in questi giorni fino a che ogni pezzo delle camere COC sarà rimosso. Sentiamo. Vorremmo avvisare la cittadinanza di quanto si sta realizzando sull'Uncomare nelle ore notturne. I cittadini sanno bene che sull'Uncomare nel porto Rifugio sono allocati due grossi contenitori per petti COC. Bene, questi contenitori una volta disarmati devono essere trasferiti dalle parti del petrolchimico. E quindi questo lavoro già inizierà a partire da questa notte e comporterà ovviamente il passaggio di un trasporto eccezionale, cioè di una colonia di automezzi che saranno a scorta di questi contenitori e che sono di notevole dimensioni. Pertanto che cosa significa questo? Che i cittadini dovranno evitare di parcheggiare le loro proprie autovetture lungo il viale Imperatore Federico II di Svevia, quindi sull'Uncomare. Perché a partire da luna la scatterà il divieto di sosta, luna di notte ovviamente, e quindi diciamo che subito dopo quel divieto di sosta che sarà operativo dovrà passare questo trasporto eccezionale, che passerà non solo stanotte ma anche domani notte. Le operazioni sono previste come conclusione entro le sei di sabato mattina. Pertanto lanciamo un appello di collaborazione ai cittadini affinché questa operazione si possa eseguire in totale sicurezza. Ed ancora bisogna tener conto che siccome si tratta di un trasporto, come dicevo prima, eccezionale, quindi di notevoli dimensioni e di una massa estremamente pesante, sono stati adottati degli accorgimenti a tutela dei tombini e di tutte le condotte fognarie. Quali sono questi accorgimenti? Sono stati apposti su tutti i tombini delle lastre in acciaio che devono evitare un eventuale sprofondamento dei tombini. Ovviamente queste lastre di acciaio sono state, è stata imposta all'impresa che deve eseguire questo lavoro, di essere nei bordi, devono essere catarifrancenti, devono essere visibili da lontano, è stata apposta idonea segnaletica e devono essere apposte anche delle luci lampeggianti. Ma questo non significa che noi non dobbiamo avvisare i cittadini di fare particolare attenzione a queste lastre. Abbiamo l'imposta a questo proposito un limite di velocità massima di 10 km orari. Al fine di poter attraversare le aree in cui esistono queste lastre, cioè da portorifugio sino alla zona petrolchimico, in totale sicurezza. Pertanto ancora una volta rinnoviamo questo invito ai cittadini di usare la massima prudenza sul luncomare Federico II di Svevia e di collaborare nel senso di togliere le autovetture che ci sono o là parcheggiate a partire dall'ora 1 di stanotte. Altrimenti incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e quindi in rimozione con verbale. Adesso ci occupiamo della decisione della Giunta Messinese di affidare lo stadio Vincenzo Presti al Gela Calcio. La dichiarazione arriva dopo poche ore dalla conferenza stampa della stessa società calcistica in cui emergevano tutte le preoccupazioni del gruppo. Adesso si attendono nuove evoluzioni. Intanto sentiamo il punto in questo servizio. E' arrivata ieri in un'aula consigliare quasi vuota la presenza di soli quattro consiglieri oltre al presidente Alessandra Ascia e agli assessori Simone Siciliano e Francesco Salinitro la risposta sulla decisione relativa all'affidamento dello stadio Vincenzo Presti. Abbiamo deciso, ha detto lo stesso Francesco Salinitro, di assegnarlo in gestione alla società calcistica più rappresentativa, insomma il via libero ufficiale alla gestione del Gela Calcio. In questo modo Salinitro ha risposto all'interrogazione presentata dall'esponente del polo civico Sandra Bennici che ha chiesto soprattutto trasparenza nell'affidamento delle strutture sportive e non solo di proprietà comunale. Ovviamente gli ulteriori oneri, stando alla risposta, dovrebbero essere a carico della società calcistica. Le dichiarazioni dell'assessore Francesco Salinitro seguono di poche ore la conferenza stampa del Gela Calcio in cui è emersa tutta la preoccupazione di un gruppo che è pronta ad abbandonare se Tuccio non dovesse ritrattare le sue intenzioni di mollare. Come dicevamo prima nel pomeriggio di ieri, conferenza stampa del Gela Calcio, emerge un quadro assai preoccupante se il presidente Angelo Tuccio non tornerà sui suoi passi, ritirando le dimissioni e riprendendo le redini del club. I quadri tecnici abbandoneranno tutto e tutti col cuore in gola. Senza il nostro presidente anche questo progetto, hanno detto, finisce qui. Anche la politica d'accordo sul sostegno incondizionato da dare al presidente Tuccio. Sentiamo. Se il presidente Angelo Tuccio non torna sui suoi passi, ritirando le dimissioni e riprendendo le redini del club, noi abbandoneremo tutto e tutti col cuore in gola. Dispiace, ma senza il nostro presidente anche questo progetto finisce qui. Anche la politica d'accordo sul sostegno incondizionato da dare al presidente Tuccio. Alla conferenza stampa indetta dai vertici della squadra biancazzurra, presenti anche il capogruppo consigliare del PD Enzo Cilignotta e quello di Forza Italia, Toto Scerra, proponente della mozione di indirizzo a favore della concessione al Gera Calcio della gestione del Vincenzo Presti. Sentiamo Morizio Nassi e lo stesso consigliere comunale Scerra ai nostri microfoni. Quando il presidente ci ha comunicato con grande amarezza, con grande dolore, la decisione di voler lasciare ad altri il Gela Calcio, vedevi veramente la sofferenza nel farlo. Stesso dolore che abbiamo poi percepito noi e che ognuno di noi realmente ha capito che la situazione era grave. È grave. Io non ti nascondo che quattro giorni che non dormo perché so che se dovesse andare via la famiglia Tuccio da Gela non vedo un futuro Rosio perché questa è una famiglia seria, Tuccio è una persona seria, che ha un programma ambizioso, un progetto ambizioso e importante, quindi dovesse andare via lui non vedo futuro. C'è un silenzio assordante per quanto riguarda lo stadio da parte dell'amministrazione. Io oggi qui mi aspettavo almeno la presenza dell'assessore allo sport. Non l'ho visto, non c'è stato, spero che sta lavorando per la questione stadio. Cosa potrebbe succedere a suo avviso affinché la giunta comunale approvi nei tempi almeno necessari e affinché Tuccio possa ritornare sui suoi passi? Secondo me manca la parte fondamentale che è il dialogo. Il sindaco farebbe bene a chiamare il presidente Tuccio a sedersi attorno al tavolo e cercare di stabilire i criteri sempre legittimati dalla legge. La mozione, dalla stessa presentata, prevedeva anche dei risparmi per le casse comunali nel caso in cui il gelacalcio dovesse farsi carico delle spese, appunto vive per sostenere una importante struttura come quella dello Stato di Ingezzo Presti. La mozione era chiara, la mozione parla di un affidamento o gestione al gelacalcio ma è normale che il gelacalcio doveva caricarsi le spese della gestione, quindi della luce, dell'acqua e quindi il comune andava a risparmiare. E con quei soldi avevamo comunque indicato e suggerito all'amministrazione con i soldi che andiamo a risparmiare dando la gestione al gelacalcio andiamo a costruire un'altra tribunetta all'Enrico Mattei. Cosa senti a dire ai tifosi che in questo momento stanno vivendo un vero e proprio dramma sportivo? È normale che i tifosi in questo momento sono tristi, sono scontenti, vogliono risposte da parte della politica. Io nel mio ruolo e nel mio piccolo sto facendo il massimo, spero che l'amministrazione si svegli e capisca il momento che è abbastanza delicato e aiuti queste persone ad andare la domenica allo stadio con allegria e spensieratezza. Adesso sentiamo i microfoni di Flavio Centamore, il direttore sportivo del club Biancazzurro, Giovanni Martello. Questa squadra e questi tecnici vogliono stare con Tuccio e se Tuccio andrà via non ci sarete più nemmeno voi. Penso che era il minimo che potevamo fare. Se io sono stato scelto come direttore sportivo, se i ragazzi hanno scelto questo progetto, penso che era un atto normale nei confronti di una famiglia che tanto ha dato al calcio e una famiglia che tanto ancora vorrebbe dare al calcio. Una famiglia che ha fatto sì che Gela balzasse agli onori della cronaca per grandi meriti. Era obbligo a mio giudizio dare un attestato di stima, di riconoscimento qualora ancora ce ne fosse bisogno ad un presidente che ci ha consentito di partire il ritiro e ci ha consentito di svolgere una preparazione così come la svolge una squadra professionista. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema, abbiamo lavorato, ripeto, con grande professionalità e questo è da dire solo grazie al nostro presidente. L'ipotesi che Tuccio non dovesse ritornare sui suoi passi, tutti abbandonereste la barca Gela Calcio? Non c'è il ben che minimo dubbio, ma come ho detto in conferenza stampa la credibilità, la onorabilità della famiglia Tuccio è indiscussa dall'Alto Adice a Lampedusa. Nel mio ruolo quando ti confronti con presidenti di altre società, con procuratori o quando vai nelle riunioni in Lega si percepisce, e te lo dicono chiaramente, il rispetto per il presidente Tuccio. E quindi, insomma, credo sia impossibile trovare di meglio. Le spera in cuor suo che Tuccio possa ritornare sui suoi passi o che si faccia qualcosa a livello soprattutto istituzionale affinché Tuccio possa rimanere alla guida di questa società? Guardate, io sono molto preoccupato perché ho visto un uomo ferito, ho visto un uomo che con grande gioia è stato presente ogni sera a cenare con la squadra zafferana, ritornare da impegni lavorativi in Italia e piuttosto che andare a casa a seguire la squadra, stare vicino alla squadra. Ho visto un uomo particolarmente ferito, era dalla gioia e è passato alla frustrazione, alla delusione. E questo onestamente mi fa stare molto preoccupato, anche perché lo ha dimostrato il presidente non con le chiacchiere ma con i fatti che non è iscritto la squadra in C1, credo che sia l'unico caso in Italia che una squadra che non ha un euro di debiti non si iscriva ad un campionato. Quindi sicuramente c'è grande preoccupazione. E nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera, oltre che di gelacalcio, si è parlato anche della vicenda degli ombrellini montati sul corso principale e dei problemi legati alla raccolta differenziata dei rifiuti in questi due servizi che seguono i particolari. L'estate degli ombrellini della discordia. La stagione calda del 2016 rischia di passare alla storia di Gela come quella che ha diviso la città tra i pro e i contro l'idea di abbellire il centro storico con la posa degli ombrellini colorati. Per carità, idea scopiazzata da altri comuni, ma che un fondamento di estetica gradevole l'avrebbe persino potuta avere. Se non che, in questa città una cosa, che sia una, fatta veramente bene, non si riesce proprio a partorirla. Intanto non serviva certo un provetto colonnello Bernacca per scoprire che dall'indomani della posa degli ombrellini erano previsti tre giorni di vento forte sulla città del Golfo. Sarebbe persino bastato consultare i tanti siti specializzati di meteorologia per sapere che Gela stava per essere interessata da folate di vento di ponente che avrebbero interessato per diversi giorni il nostro territorio. Ed invece la sera prima montati e già all'indomani gli ombrellini erano ad inseguire il vento più che a coprire le teste dei gelesi che passeggiavano sul corso principale. Non solo, ma poi è esplosa anche la polemica politica sul costo dell'iniziativa con l'assessore al ramo Eugenio Catania che sul tema non è che sia stato così esaustivo. Fatto sta che ancora ieri sera in Consiglio Comunale ha tenuto banco la storia degli ombrellini e quanto siano costati. Si dice 9.000 euro e se così fosse chiediamo ufficialmente all'Aggiunta Comunale di sospendere immediatamente l'eventuale pagamento di questo servizio e per un motivo molto semplice, grave inadempimento del servizio prestato. Su via, che gli ombrellini siano di scadentissima qualità se ne accorge anche un bambino che siano stati montati a sesso maschile di cane pure. Ora, si può comprendere che a portarseli via e a renderli un obbrobrio sia stato il vento forte dell'estate gelese ma che anche durante i giorni di calma piatta sti ombrellini sono alcuni chiusi, altri impiccati e altri ancora sgangherati beh, questo non è assolutamente accettabile. E' allora che si sospenda il pagamento alla ditta a cui è stato appaltato il servizio. A proposito di questa ditta, pare che l'assessore Catania abbia affidato l'incarico ad un'associazione che con la passata amministrazione comunale andava letteralmente a nozze ed anche a chi accusa questa amministrazione di perfetta continuità con il passato e cioè con i precedenti governatori della città la vicenda degli ombrellini non ha certo aiutato a sfatare questa diceria. E mentre i gelesi, come regalo pre-ferragostano, stanno ricevendo a casa dai solerti uffici i tributi del comune di Gela e il bollettino per il pagamento annuale della tassa sui rifiuti non si placano le polemiche politiche sul servizio di raccolta differenziata in città. Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi ieri sera il consigliere Giovanni Panebianco è tornato a puntare l'indice sul rapporto tra amministrazione comunale e Tecra ossia la ditta campana che gestisce da un paio di anni in città il servizio di raccolta rifiuti. Panebianco ha in particolare sollevato il caso della mancata applicazione delle penali alla Tecra per non essere riuscita nell'intento di raggiungere livelli percentuali ottimali di raccolta differenziata. A Panebianco ha risposto l'assessore comunale al ramo Simone Siciliano che gli ha ribadito come l'amministrazione comunale su questo fronte si stia muovendo secondo i parametri imposti dalla giurisprudenza. E a chi invece come i consiglieri di Reset 4.0 Francesca Caruso e Luigi Di Dio sollevavano il problema delle condizioni in cui si trovano a lavorare gli operai della Tecra lo stesso Siciliano ha risposto che non è vero che i lavoratori della Tecra non abbiano a disposizione i necessari dispositivi di sicurezza. Insomma mentre in Sicilia il governatore regionale Crocetta non riesce a trovare la quadra sulla soluzione della gravissima crisi di un'isola stupenda ma sommersa dai rifiuti a Gela tiene sempre banco questa delicatissima vicenda che per la terza estate consecutiva ha costretto i malcapitati cittadini gelesi a dover convivere con cumuli di spazzatura da ogni angolo di strada e problemi connessi. Ed è ancora fresca la pessima immagine che si è data di Gela con i rifiuti sparsi in maniera indecorosa per tuttavia Rio de Janeiro nei giorni scorsi. Ed è per questo che servono interventi non tampone ma duraturi per rendere al più presto la situazione non più emergenziale ma stabile. Da un lato dunque una gestione oculata del servizio ma dall'altro anche una cittadinanza che cominci a sforzarsi per fare seriamente e regolarmente la raccolta differenziata dei rifiuti. Perché senza questa comunione di intenti non si risolverà assolutamente nulla e la città resterà sempre sporca come in questa calda estate. Quello che si è verificato nel Consiglio Comunale chiamato a discutere sul protocollo ENI e sull'accordo di programma conferma che nulla è cambiato nella nostra città e che la situazione sia anzi persino aggravata. Lo scrive in una nota inviata alla stampa Lucio Greco di un'altra Gela. Il dibattito che si è sviluppato per una serie di ragioni ha dell'incredibile presente aspetti inquietanti. E' mai possibile che su una problematica da cui dipende il destino della città il sindaco messinese se ne stia zitto come se la questione non lo riguardasse? E' mai possibile che il regista di tutta l'operazione sia il vice sindaco siciliano non solo non eletto dal popolo ma addirittura accusato di fare l'assessore e contemporaneamente l'imprenditore? E' mai possibile che una parte del Partito Democratico si spinga a tal punto di sostenere apertamente questa giunta attraverso il suo capogruppo Cirignotta? Di fronte a scelte così decisive scrive ancora Lucio Greco in considerazione della grave crisi sociale, occupazionale ed economica in cui versa la nostra città per il rispetto che si deve a tutti i lavoratori costretti a trasferirsi al nord per il rispetto che si deve a tutti i lavoratori dell'indotto lasciati nel pieno e totale abbandono non possono essere certi personaggi a condizionarne il futuro La politica che conta, quella serie responsabile non può restare a guardare Gela per l'alto e pesante prezzo pagato merita una particolare attenzione così come è stato fatto per Taranto conclude Lucio Greco di un'altra Gela Non riusciamo a comprendere come si possa dichiarare di essere aperto ad ogni forma di collaborazione con il Consiglio Comunale dopo poco dichiarare di avere un investitore privato per il porto rifugio senza prima averlo comunicato al tavolo di lavoro sul porto che da oltre otto mesi si occupa dell'intervento emergenziale che si dovrebbe realizzare con una piccola parte dei soldi delle compensazioni eni con un progetto redatto dalla protezione civile su commessa della stessa regione siciliana Lo scrive in una nota inviata alla stampa il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle dopo mesi di tira e molla e soprattutto dopo aver perso tempo grazie alla totale incapacità dell'amministrazione oggi viene fuori il progetto di porto turistico in project financing forse questo intervento per la stessa amministrazione non rappresenta proprio un'emergenza come è emerso alla conferenza dei servizi convocata il 28 giugno scorso dalla presidente della regione siciliana quando i delegati eni hanno chiesto al sindaco se per loro fosse o meno una priorità leggiamo ancora nel documento sembra quasi che al vice sindaco non interessi risolvere i problemi della città i piccoli problemi della città che darebbero immediatamente respiro alle varie categorie adesso ci aspettiamo che risponda a gran voce la regione siciliana per fare chiarezza su quanto dichiarato dall'amministrazione comunale ma soprattutto per spingere definitivamente alla sigla dell'accordo sui 5 milioni di euro concordati con l'eni già il 28 giugno scorso ci chiediamo ancora concludono i grillini se dopo più di 10 anni di attesa per il rifacimento del porto rifugio con finanziamenti pubblici ITER che ha bloccato ogni iniziativa alternativa Gela si meriti di consegnare il proprio porto ad un privato piuttosto che vederlo riconsegnato alla città funzionale e operativo per gli operatori del settore per chiunque ne voglia godere le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016 lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali Licia Abela la domanda di partecipazione unitamente sui allegati dovrà essere presentata appena di esclusione entro il prossimo 30 settembre esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie secondarie inferiori statali e paritarie ovvero ai liberi consorsi comunali per gli alunni delle scuole secondarie superiori statali e paritarie al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore ma anche lo stesso studente se maggiorenne appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE l'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro i moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela bene termina qui la prima parte del nostro telegiornale ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale Alvia l'edizione 2016 del corso di iconografia I volti della misericordia promosso dall'Opera Pia Pignatali Roviano di Gela e condotto dai maestri dell'atelier San Vladimir di Siracusa il corso formativo avrà inizio il 17 agosto prossimo e si concluderà il 27 sono previste lezioni frontali e laboratori creativi le iscrizioni saranno aperte oggi venerdì 5 agosto e mercoledì 10 dalle 18.30 alle 19 nei locali di Via Feace il seminario teorico pratico prevede vari livelli di studio collezioni di teologia estetica e tecnica oltre alla realizzazione di un'icona secondo l'antica arte bizantina direttore dei lavori sarà la dottoressa Mirella Roccasalva a Firenze maestra iconografa e docente di arte sacra e iconologia il corso è un progetto ideato da Monsignor Grazia Labiso dal direttivo dell'Opera Pia per informazioni bisognerà chiamare il numero di telefono 345 4102 06 243 il tavolo aree verdi e mobilità urbana di Cantiere Gela propone un'iniziativa molto virtuosa che riguarda la pulizia di alcuni giardini che insistono nella zona di Capo Soprano qui siamo in via Morselli nello specifico nel giardino Margherita qual è la vostra proposta e soprattutto come pensate di coinvolgere tutti i cittadini che volessero la Cantiere Gela ha diversi mesi impegnato in diverse iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sulle principali problematiche appunto della città stessa il nostro tavolo tematico si occupa appunto di aria verdi e ha lanciato l'iniziativa di proporre appunto all'amministratura il regolamento per la congestione di aria verdi con i privati a tal fine abbiamo infatti lanciato come iniziativa anzi come proposta quella di sperimentare in via Morselli in piccolo appunto questa cogestione quindi noi oggi affiggeremo le locandine per chiedere alla cittadinanza di dare la disponibilità indicando anche l'aria che loro vorrebbero adottare sostanzialmente successivamente noi a settembre ci auguriamo di poter indicare questi nominativi all'amministrazione così da consentirle di poter predisporre gli atti amministrativi a fine di poter cogestire appunto queste aree quindi facendo leva sul senso civico della cittadinanza l'obiettivo sarebbe quello di tenere nel massimo decoro delle piccole aree verdi sì l'idea è quella da un lato di manutendere queste aree che purtroppo a causa insomma anche dei problemi di gestione non sono in uno stato ottimale dall'altro lato l'idea è quella di far riappropriare questi spazi alla cittadinanza la gente deve sentire questi spazi come propri quindi non solo con il proprio contributo può aiutare a manutendere ma anche diciamo possono essere i nostri occhi vigili per la gestione di queste zone ricordiamo la mail di contatto sì la mail di contatto è candiere tavolo verde chiocciola gmail punto com l'iniziativa è più che altro mirata a dare a Gela ai gelesi essenzialmente un esempio di che tanti spazi verdi abbandonati per quanto per quanto mi riguarda sono ormai brutti a guardare noi vogliamo dare un esempio perché venga dato venga sistemato questo verde che può diventare anche una zona di aggregazione anche per i ragazzi per tutti quanti e dopodiché speriamo che anche gli altri spazi verdi di Gela possano essere utilizzati e gestiti da queste persone perché per farli diventare belli come spero diventerà questa via Borselli dunque intende dire anche di altri quartieri ma sicuramente per tutto Gela noi abbiamo dato una proposta al comune di Gela per dire che è un regolamento perché possa dare poi in gestione queste aree verdi all'interno del comune di Gela il nostro scopo è quello di dire che Gela era bella e noi vogliamo che Gela diventa ancora più bella noi vogliamo una città bella pulita perché possa essere di ricamo a tutti i turisti dell'Italia e dell'Europa continuano gli appuntamenti con l'estate gelese 2016 oggi alle 21.30 al teatro comunale Eschilo in scena allo studio Chiros domani giovedì 4 agosto sempre alla stessa ora in piazza Salandra associazione Sundown e venerdì 5 nella zona rinascimento associazione culturale Sergio Di Dio concerto del duo di chitarra Daniele Pidone e Massimo Martinez domenica 7 agosto alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine a Gela l'iniziativa rientra nel cartellone l'estate gelese con la musica colta promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra preseduta da Crocifisso Ragona continuano i festeggiamenti in onore di San Sebastiano a Gela da oggi comincerà il triduo alle 17.30 arrivo dell'effigie di San Sebastiano nel quartiere Margi alle 18 recita del Santo Rosario alle 18.30 Vespro e alle 19 Catechesi e Santa Messa l'effigie del Santo domani giovedì 4 agosto sarà portata nel quartiere Albani-Roccella e venerdì 5 nel quartiere Poggio Blasco sabato 6 agosto alle 18 recita del Rosario alle 18.30 Vespro e alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione dell'autorità civile e militari prevista la processione del simulacro in Piazza Santa Faustina si terrà la benedizione con la reliquia per il secondo anno consecutivo il Volley Gela organizza il torneo nazionale Beach Volley FIPAV nella forma del King & Queen a Lido controcorrente dopo i successi della passata edizione arriveranno 16 dei migliori atleti del panorama nazionale sia maschile che femminile nomi di punta che divertiranno il pubblico gelese dal 6 al 7 agosto nel calendario della settimana del Volley sono stati inseriti due giorni di beach volley amatoriale aperto a tutti giorno 4 e 5 agosto in notturna ci sarà il torneo giallo dove tutti gli appassionati possono iscriversi e passare due serate di divertimento e sport la sera del 5 agosto ci saranno due partite di esibizione una maschile e una femminile di alcuni degli atleti che il 6 e il 7 daranno spettacolo presso il Lido del controcorrente il torneo nazionale sarà animato da Alma de Cuba di Massimo Cavallaro e dalla scuola di ginnastica artistica di Walter Miciche appuntamento con il teatro all'aperto all'antidoto di Macchitella Gela domani alle 21 e 30 la compagnia teatrale antidoto si esibirà in servizio in camera il prezzo del biglietto è come sempre di 5 euro a coppia venerdì 5 agosto alla stessa ora è previsto il gala di premiazione con ingresso libero del sesto premio Rocco Federico è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo che notizie e servizi approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci grazie a tutti